Dopo il blocco dei soldi deriva da parte del Tribunale svizzero, la strategia è diventata vendere l'ILVA in tempi brevi e da parte del Consiglio dei Ministri è arrivato un decreto legge che accelera la cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ILVA, insieme allo stanziamento di 300 milioni di euro per facilitare il percorso di transizione. Il decreto, come annunciato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Vincenti, fissa al 30 giugno 2016 il termine ultimo per la scelta di un soggetto privato a cui verranno poi trasferiti i beni del gruppo Riva oggi in amministrazione straordinaria. Questo, ha detto De Vincenti, per velocizzare il rilancio industriale e dare stabilità futuro all'ILVA. L'acquirente aggiudicatario, spiegato il Ministro allo sviluppo economico Guidi, verrà scelto tramite procedura a evidenza pubblica e sarà valutato in base alla bontà del piano industriale presentato e in base anche alla proposta ambientale. L'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, rimane in vigore, ha chiarito il Ministro Guidi. E' stato solo rimandato, ha detto, il termine di realizzazione del piano ambientale dal 4 agosto al 31 dicembre 2016. Il perché lo ha spiegato il Ministro dell'Ambiente Galletti. Il progetto che verrà presentato dal soggetto aggiudicatario potrà anche portare modifiche al piano ambientale, ha detto, sottolineando che le eventuali modifiche avverranno attraverso le stesse procedure utilizzate per la formazione del piano ambientale già esistente. Insomma, la parte ambientale resta un elemento determinante del salvataggio dell'Ilva, ha voluto sottolineare il governo a Palazzo Chigi.